Proseguono a battipaglie i controlli inerenti alla tutela ambientale, dopo i dati delle centraline, che sono tre, ma arriveranno a nove, che indicano i valori dell'inquinamento in città. Sono state fatte segnalazioni anche ai nove. I riscontri non sono allarmanti. Solo di notte si registrano aumenti dei parametri condizionati anche dal vento. La sindaca di Cilio Francese, con l'ossessore dell'ambiente Carolina in vicinanza e l'amministrazione, sono pronti anche a riprendere in mano il discorso del contratto di fiume. È stata fatta una comunicazione a tutti i comuni che sversano il Tusciano dopo i pesci morti lungo il litorale. Dato positivo che è il primo anno senza divieto di balneazione. Si deve migliorare la parte del Valle Monio che non arriva al depuratore di Tavernola ed è stata fatta nei giorni scorsi anche una segnalazione all'ASIS per una verifica.